Macro categoria imprese, categoria servizi e consulenza. Il premio è eccellenza dell'anno La motivazione. Per essere un'eccellenza in costante crescita sin dal 1989, per essere un punto di riferimento all'avanguardia nei settori della data protection e della cyber security, oggi quanto mai strategici, per il prestigio degli incarichi e la capacità di offrire soluzioni di alto standing ai principali player imprenditoriali italiani. The winner is Studio Armoni e Associati. È con piacere che saluto e ringrazio per essere qui con me Marco Armoni, fondatore Studio Armoni e Associati, che invita a salire naturalmente sul nostro palco, al quale consegno proprio a mano il premio. Benvenuto. Grazie, grazie, grazie molte. Glielo faccio appoggiare e naturalmente si accomodi pure perché voglio subito chiederle che cosa pensa di questo riconoscimento e sono un commento a caldo. Beh, è un premio che non ci aspettavamo, sinceramente. Ci fa molto piacere averlo ricevuto perché è un premio molto importante e siamo molto contenti di questa vittoria. Ancora più importante in questo momento mi viene da dire, perché insomma si deve guardare oltre, no? Io spesso dico bisogna andare oltre l'ostacolo. Come abbiamo letto molte cose positive nella motivazione che magari adesso ripercorriamo insieme. Come ci siete riusciti fino adesso e soprattutto come proseguire da questo momento in avanti? Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare nell'ambito della cyber security e della compliance molti anni fa e abbiamo continuato a studiare soprattutto nel campo. È importante che ci sia sempre ricerca e sviluppo perché altrimenti il vendere soluzioni non risolve. Quindi è importante ascoltare il cliente e quindi l'interlocutore, nello stesso tempo conoscere il panorama di riferimento e conoscere tutte le normative che ci sono. Non è facile perché poi oltretutto operando in diversi paesi, operando con una struttura abbastanza importante, è chiaro che le cose da sapere sono tante. Diciamo che noi stiamo continuando ad andare avanti collaborando anche con dei grandi entri in centri di ricerca. Ecco, oltretutto settori in questo momento strategici, lo abbiamo letto anche nella motivazione, ma insomma lo voglio dire nuovamente, data protection, cyber security, sappiamo molto bene perché. Insomma, quindi puntare, avete puntato in tempi non sospetti, puntare ancora di più adesso. Assolutamente. Sì, noi abbiamo iniziato a lavorare occupandoci di security, soprattutto in ambito di agenzie governative, per cui ci occupavamo di quello che potevano essere delle problematiche su delle strategie di sicurezza. Oggi è diventato molto importante perché chiunque lascia i suoi dati in qualsiasi posto e questi dati vengono quasi sempre ceduti a terzi. Quindi è molto importante saperli proteggere, quindi creare una cultura di questo, avere gli strumenti per poter proteggere i dati e soprattutto fronteggiare con gli attacchi. Ora a me le guerre non si combattono più con i carri armati o con gli aerei, a parte qualche volta, ma si combattono sul fronte cyber, quindi sul fronte informatico. Certo, dove senza una corretta conoscenza si rischia parecchio e peraltro oltre alla conoscenza anche avere, è ideale, avere ottimi punti di riferimento come voi. Abbiamo letto anche questo insomma nella motivazione. Cosa vuol dire essere punto di riferimento oggi? Punto di riferimento vuol dire che le imprese, i settori della pubblica amministrazione, ma anche in alcuni casi privati che si rivolgono a noi o comunque anche a nostri colleghi, hanno dalla loro parte un vero partner, quindi non il consulente che arriva e dice questa è la soluzione, ma un vero partner che cerca di capire il problema, risolvere il problema dando una mano e quindi diventando una persona di assoluta fiducia, anche perché quando si parla di sicurezza, chi viene a raccontare i problemi ci dà le chiavi di casa sua o dell'azienda in mano. Assolutamente sì. E quindi noi diventiamo quelli che effettivamente conoscono tutto. Esatto, esatto. E siete quelli più fidati in quel momento. Esatto. A cui bisogna affidare tutto, appunto come se si affidasse casa nostra. Assolutamente. È un giusto paragone. Bene, quindi il futuro bisogna guardarlo con ottimismo. Direi di sì, direi di sì, direi di sì. Bisogna proteggersi ma guardare con ottimismo le cose. Certo, con la giusta protezione, ma questo sempre la cautela e la protezione, sempre. Assolutamente sì. Io naturalmente non posso far altro che complimentarmi ancora con Armoni Associati e ringraziare Marco Armoni, fondatore dello studio. Complimenti, insomma, ai prossimi riconoscimenti. Grazie molte, grazie a voi, grazie a lei di tutto, grazie di aver ricevuto alle fonti per averci dato questo premio. Guardi, lo prendo intanto questo. Veramente, veramente. Chiudiamo proprio con il premio nelle mani del vincitore e grazie ancora. Grazie.